L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Volontari organizza una cena di beneficenza perché l'associazione nasce per aiutare gli staccamenti dei volontari. Daniele, in questo caso volete aiutare gli amici di Vendone, la delegazione di Vendone? Esatto, vogliamo aiutare il distaccamento di Vendone acquistando un'attrezzatura che si chiama Naso Cerca Fughe Gas, che serve apposta per gli interventi di fuga gas, per darlo in donazione al distaccamento locale in modo da poter potenziarne le funzioni e l'attività. E quindi per aiutare la delegazione dei Vigili del Fuoco Volontari di Vendone basta andare a cena con i pompieri venerdì 22 novembre, 20 e 30? A Pietraligure, al ristorante Fantasy vicino alla stazione di Pietraligure. Ecco, vediamo che qui ci sono i recapiti per telefonare, per comunque mettersi in contatto con l'associazione e partecipare a questa cena che ha uno scopo benefico importante, serve aiutare i Vigili del Fuoco di Vendone. Sì, con questi soldi noi faremo questa donazione come associazione in modo da poter migliorare quello che è l'operatività del distaccamento. E allora sarà sicuramente un'ottima cena. Sicuramente.